Come Regione Marche, gli scorsi anni abbiamo messo molte risorse per realizzare queste ciclovie, sia lungo la costa Adriatica, ma soprattutto lungo le valli, con l'obiettivo di collegare la costa con l'entroterra. Uno dei progetti molto importanti era quello di realizzare una vera e propria pista ciclopedonale lungo l'ex ferrovia Fan Urbino. Ricordo che parliamo di una ferrovia che è chiusa da oltre 34 anni e che ad oggi non è possibile pensare ad una sua riattivazione come servizio ferroviario. Quindi abbiamo fatto questo progetto affiancato lungo i binari, circa un metro e mezzo dai binari, che era un progetto secondo me di valorizzazione molto importante, perché da una parte poteva migliorare la qualità della vita di tutti i residenti che vivono in questa vallata, perché in molte situazioni non ci sono marciapiedi, non c'è niente, ma c'è a fianco un'infrastruttura abbandonata da oltre 30 anni che poteva essere utilizzata. Ma dal nostro punto di vista era anche un'opportunità per il lancio turistico, sono sempre di più le persone che decidono di viaggiare e di viaggiare in bicicletta o che comunque decidono di andare a fare un viaggio dove ci sono infrastrutture della sostenibilità tipo questa e quindi sarebbe stata una grande opportunità. Purtroppo ad oggi l'attuale governo regionale ha deciso di modificare il progetto, cioè di farlo fuori rispetto all'area di proprietà di RFI. Noi riteniamo che sia un errore, ovviamente continuiamo un dialogo aperto e costruttivo con chi oggi governa il nostro territorio regionale perché penso che il confronto e il dialogo debba portare poi a una sintesi che però dal mio punto di vista deve essere quella di realizzare questa infrastruttura a fianco alla linea ferroviaria. Non sono necessari praticamente spropi, un progetto che era stato condiviso con le varie amministrazioni e devo dire che i cittadini, che purtroppo non è difficile riuscire a dargli la parola, ma se dovessero parlare sicuramente direbbero che vorrebbero un percorso ciclopedonale e non una ferrovia che creerebbe disagi perché ovviamente parliamo di una linea che passa attraverso le molte abitazioni, i centri abitati e quindi riattivarla creerebbe grandissimi disagi a chi ci abita ma soprattutto ci sono oltre circa 97 passaggi a livello dovrebbero esserci, cioè attraversamenti e ad oggi pensare di fare 97 passaggi a livello in circa 50 km penso che sia un progetto impossibile da poter portare avanti. In realtà comunque è vero che ci sono delle difficoltà politiche a livelli alti della regione, esistono anche delle associazioni del territorio che comunque insistono sulla riattivazione della ferrovia sul vecchio percorso, diciamolo, forse è una questione un po' strumentale perché tanto chi vive Fano, chi conosce la città sa benissimo che sarebbe impossibile. Secondo me questa associazione devo dire che fa un lavoro che dal loro punto di vista è anche presevole, cioè sono anni che ribadiscono la necessità di riattivare il treno. Il tema è che oggi chi governa deve fare delle scelte, io ritengo che questa sia una scelta che non sarà possibile portare avanti sia dal punto di vista tecnico ma anche delle reali risorse a disposizione, però devo dire che ci sono decine e decine di associazioni con i quali ci siamo incontrati, abbiamo organizzato proprio i giorni scorsi un incontro e a breve probabilmente verrà annunciata anche una data, il giorno in cui faremo come dire una manifestazione ovviamente di sensibilizzazione ma anche pacifica per far capire che ci sono tante persone che invece vogliono che venga realizzato questo percorso ciclo pedonale.